Sagra di Sant'Anna al top. Ieri sera il Comitato Sagra ha donato alla frazione un defibrillatore, pensando a chi potrebbe avere necessità di un intervento rapido di soccorso che talvolta, per motivi legati soprattutto al traffico estivo, si teme possa giungere in ritardo. L'importante dispositivo elettromedicale è stato posizionato sul lato sinistro della Chiesa. Per la serata di ieri il Comitato Sagra aveva contattato l'Associazione Cuore Amico, la quale ha coinvolto il primario del reparto di cardiologia dell'ospedale civile di Chioggia, il professor Roberto Valle e alcuni infermieri del reparto. Nell'occasione è stato proposto uno screening cardiologico gratuito per tutti coloro che avessero desiderato sottoporvisi. Oltre a questo sono state fatte dimostrazioni di massaggio cardiaco e di disostruzione delle vie aeree. Iniziativa lodevole a completare una sagra che cresce anno dopo anno e che riesce a coinvolgere la popolazione non solo offrendo pietanze tipiche, ma anche impegnandosi in quel qualcosa in più che fa la differenza. Oggi alla sagra ci sarà l'orchestra spettacolo Rosella Ferrari e il gruppo The Sunrise. Domani sarà l'ultimo giorno e alla mezzanotte ci sarà la grande lotteria e lo spettacolo pirotecnico. Pescheria Cam Vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam con sede all'isola Saloni di Chioggia lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591.